cari amici di bet pro ci ritroviamo qui per la terza edizione di malta poker dream firmato bet pro anche quest'anno tantissimi ospiti tantissimi giocatori importanti come maurizio agrello fabrizio baldassari e non solo fabrizio crimi presidente di bet pro anche quest'anno ci ha pensato a giocatori infatti ci sarà una sorpresa grandissima che scopriremo poi insieme questi giorni seguite e vediamoci nelle sale e apriamo ufficialmente questo torneo sono qui con marco bognani un viso conosciuto la seconda volta che provi malta poker dream giusto esattamente sì sì ormai è un torneo da fare ogni anno dimmi la verità oggi hai provato e anche perché se magari non va bene ritrovi riprovi domani c'è questa simpatica opzione del rientri nel caso lo sta che è enorme quindi finirle c'è da far fatica però è il caso potrebbe riprovare domani si obiettivo quest'anno vincere mostacchione un paio di anni fa fatto secondo io proverò a vincere contro agrello nel caso se capita va bene allora a bocca al lupo per il gioco grazie ciao a tutti sono qui con maurizio che sei la terza volta che vieni qui a malta e sei anche vincitore di non l'anno scorso ma prima oggi ti vedo giocare tranquillo sereno l'obiettivo quest'anno spererei di fare quello che ha detto marco e sap con lui farlo vincere tranquillamente il secondo posto mandrebbe benissimo direi che è un obiettivo molto alto